Noi ci troviamo in un palazzo dove ci sono 15 appartamenti, tutti di un'unica proprietà. Noi dal 1 aprile siamo in sciopero dell'affitto e in quel periodo abbiamo chiesto alla proprietà una sospensione del canone di locazione per i mesi dell'emergenza e la proprietà invece ci ha risposto che poteva solo effettuare una riduzione momentanea del 50% con un recupero dai mesi di agosto-settembre dell'amorosità pregressa. Eravamo in una situazione di difficoltà estrema nel trovare dei soldi da dare a una società immobiliare che ha 15 milioni di euro di patrimonio. La particolarità di questo palazzo è che la maggior parte di noi sono tutti giovani precari. Molti di noi non sanno neppure se i contratti che avevano a tempo determinato e che sono stati sospesi per le misure di contenimento dell'emergenza vengano rinnovati. L'unica cosa sicura che sappiamo è che l'emergenza sanitaria sarà seguita da un'emergenza e una crisi economica di livelli globali. Faccio la tatuatrice e ho la partita IVA. Mi sono ritrovata senza nessun tipo di entrata da appunto l'8 marzo e dovendo pagare comunque un affitto mensile di 280 euro. Anche questo bonus che sarebbe dovuto spettare ai possessori di partita IVA. Io ancora non li ho visti questi soldi. La questione non è che noi non vogliamo pagare l'affitto perché non ci va. Il fatto è che non lo possiamo materialmente pagare. Sono un videomaker e mi sono trovato in una situazione di difficoltà per quanto riguarda l'aspetto economico perché tutti i lavori che mi ero programmato in questo periodo e che avevo in questo periodo da fare sono saltati per ragioni ovvie. Quando ti ritrovi con 100 euro sul conto corrente diciamo che preferisci spenderli per mangiare piuttosto che pagarti un canone mensile. La cosa positiva è che essendo io documentarista comunque ho voluto cogliere questa occasione per documentare quello che sta succedendo in questo palazzo. Mi sono ritrovato nella stessa situazione dei miei vicini di casa e questa situazione ha fatto sì che ci unissimo e cercassimo di combattere a questo problema insieme. L'unione fa la forza alla fine è un detto abbastanza banale ma funzionale. L'unione fa la forza alla fine è un'attività e un'attività e un'attività.